si siamo capiti no? oh le ho munizioni per un fucile eh? hanno messo i fucili? ah non mi ricordo la precedente beta quindi per questo sono un po' stupito ma ce l'ho mino è capitato un po' stupito Ok Ok, vogliamo l'assenza di sopra, è chiusa, non si vuole rompere, qui non c'è giustamente niente, ancora me l'ho svuotato, forse di là, forse quella voglia aperta, forse quella ha scorciato voglia per quando andrò avanti, va bene, eccolo, ecco l'altro, sì, dai, no, 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 no no, no fuori! eccala errore mio e ora recuperiamo e ora si 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 Questa è volante. Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. 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 oh smembramenti ci hanno messo i smembramenti ecco l'ho corri 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 ah 2 ah 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 ok ok ah c'è l'altro c'è c'è pure l'altro c'è l'altro ci arriva Grazie a tutti. 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 Mi servono frecce. Sono senza frecce. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti.